Gabriella tu sei fidanzata da sette anni, ti sei fidanzata con lui che eri piccolissima Sì, piccolissima, io avevo cinque anni e lui due, pensa che mi veneva a prendere a casa con un riciclo Durante questi anni lui ha sempre dettato regole di comportamento che tu hai sempre rispettato Una su tutte per esempio non potevi neanche andare al gabinetto E qui come va? No, qua ci vado tranquilla, ne approfitto, una volta che lui non c'è, più ne posso fare, capito? Tommaso, pensi che io abbia un video per te? Eeeh, no, 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 sento, mi puoi dire così perché mi sta venendo l'ansia Non ho alcun video per te Ah, meno male, va, meno male Che? Che c'è? Pensi che io abbia un video per te? Mi avevi detto di no, quindi, ma chi? Ho un video per te Prima mi avevi detto di no, ufficio ora i suoi video, chi? Non ho alcun video per te T'ha a decidere però Mi che mi mi sto... No Ho un video per te Insomma, che va a fare? Vuoi muovere i suoi computer? Guarda, guarda come balla tutta sensuale Bombola, bombo cia 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 Sì, bombola cia cia Bongo cia 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 Bongo cia cia Eeeh, falò Voglio subito un filippo di confronto Scusa Eeeh, confronto Voglio subito un filippo di contorno Eeeh, con... falò Con... voglio... Quello che si uniscono Che parlano Fai tu Sei arrivata Hai visto il falò Sei tu che scrivi a Temptation Island perché dici che lui non ti ha mai dato certezze Mai, mai, certezze non me le ha date mai Ah, io non ti davo certezze Tu invece che te le andavi con gli altri, invece le certezze me le davi, giusto? Le mie erano certezze perché tu hai ricerto che io me le andavo con gli altri Ma tu chi dici se? Chi? Per due anni la tua fidanzata ha avuto una relazione parallela con un uomo più grande di lei Vabbè E qui come va? Ma, secondo me non mi tradisce più Secondo me ha capito di aver sbagliato Che cosa sbagliato? Cioè ho visto un video che eri nel villaggio che ti sei bacita tutto O che tentatore ti sei bacita per un cameraman E mi pareva un tentatore Sì, un tentatore che ha dato le camera Avevo bisogno di riprendermi Cosa ti ha dato fastidio? Lei ha sempre avuto l'abitudine di tradirmi Vedi che io nel villaggio non ho fatto niente Ah, non hai fatto niente tu, niente Vabbè, bacia però, sei esagerato Sono uscito soltanto con Luca, Giuseppe, Alberto Polo e Antonio Mie, chi è? Cioè Filippo, le corna così alte capito Netflix Prime and Sky senza bisogno di fai l'abbonamento Dai, usciamo assieme Che la vita è breve Magari poi uno dei due non c'è più o se ne penta Aspetta che faccio le corna No, per quello già ci ho pensato io, tranquillo Ma chi? Gittin rir, gittin rir Gittin rir